Grazie a tutti Kenne, Kenne, Kenne! La Juventus è in vantaggio, Moise e Kenne! Bernadeschi, Bernadeschi con il sinistro esterno dentro del Ken, gol, 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 gol! Goal! Moise, Kenne! Artur, buona l'apertura per Bernadeschi, Bernadeschi in mezzo a due maglie rosso-blu, si ferma bene al limite dell'area, il tiro di Bernadeschi, Kenne, gol, 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 gol! Goal! Su le, su le, verso Fagioli, su le, si inserisce molto bene la Juventus, palla argentino, Kenne era libero, che peccato! Il tocco per McKennie, McKennie ha il traversamento verso Kenne! La Juventus è in vantaggio, 8 minuti su un cronometro, azione meravigliosa! Moise e Kenne, perfetto, a colpirla all'angolino, a togliere la polvere, 1-0 per la Juventus! Palla, fiondata, lunga e profonda, Alexandro, colpo di testa verso Kenne, Kenne vuole girarsi, Kenne gran movimento, Kenne, Kenne! La Juventus è in vantaggio, Moise e Kenne, gol d'attaccante di razza, con il mancino sotto le gambe di Consigny, a due dal termine, siamo avanti noi con Moise e Kenne! Di bala, valla a garcio Paolo, sempre di bala, nel varco per Quadrado, Quadrado, il solido movimento a rientrare, Quadrado, il suo traversone in mezzo, colpo di testa, Kenne si può buttare sulla sfera, la recupera, va Moise, Kenne punta la porta per Di bala, Di bala vuole calciare, di bala! La lunga, la strappa via, lungo il pallone a cercare Kenne, va la Juventus, Kenne, Kenne il pallonetto di Moise! La Juventus è in vantaggio! Moise e Kenne vanno ancora a ballare per la seconda gara consecutiva, sotto la curva, Juventus 1-0! Io, cavalca sulla corsia avanzina, non riescono a fermarlo, Rabioli, accanto c'è Kostic, Kostic viene in servito, ancora il servo, traversone in mezzo a cercare, Kenne! Dopo sei mesi, torna il gol, Moise e Kenne attacca il primo palo, in maniera perfetta, 8 minuti sul cronometro, Juventus 1-0, ha segnato Moise e Kenne! Milik, Milik fa la lotta con il giocatore della Lazio, poi Milik va in recupero, Locatelli di prima intenzione dall'altra parte per Kostic, va la Juventus per il raddoppio, Kostic, Kostic! Kostic, la parata per Kenne! Il raddoppio della Juventus, il tapì vincente di Moise e Kenne! Go! 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 Go Moise Ken sinistro all'angolino al 32esimo minuto, la Juventus è avanti con Moise Ken, la zampata! Grazie a tutti!